Abbiamo avuto dei numeri importanti, siamo stati limitati dal punto di vista delle normative che giustamente ci ha imposto il governo e le istituzioni. Abbiamo avuto 70 bambini la prima settimana, 70 la seconda che era appunto il tetto massimo e l'altra settimana avremo 56 bambini e comunque direi che è un buonissimo numero. L'obiettivo quest'anno a differenza degli altri anni o meglio a maggior ragione l'obiettivo deve essere l'udico sportivo quindi dopo i mesi bruttissimi che abbiamo passato soprattutto in questo territorio era importante dare la possibilità alle famiglie, ai bambini di poter uscire di casa, di poter socializzare, di poter dare una regolarità anche alle proprie giornate e devo dire che ci siamo riusciti quindi chiaramente si va sul campo, si cerca di giocare a calcio anche lì con dei vincoli però era proprio dare la possibilità alle famiglie, ai ragazzi di uscire di casa e poter gioire, poter passare le giornate insieme. Fare un graziamento particolare a Chiara Foglieni e a Elenia Sangalle perché hanno seguito insieme tutta la parte burocratica e documentale e non era cosa di poco conto quest'anno, c'erano degli aspetti burocratici molto importanti a cui non potevamo assolutamente non dare importanza o da sottovalutare quindi gli devo fare veramente un applauso importante perché hanno contribuito in maniera importante alla riuscita del camp estivo. Dicevi bene prima sui numerosi numeri che abbiamo abbiamo ragazzi, tanti ragazzi del nostro settore giovanile il che è comunque stato un piacere rivederli dopo tanti mesi, abbiamo tanti ragazzi comunque del territorio ma tanti altri anche da settore giovanile professionisti che non potendo riuscire a fare i camp nelle loro società sono venuti qui da noi e questo ci fa solo che piacere. Grazie a tutti.